Sono 32 i rinvii a giudizio chiesti dal sostituto procuratore Marcello Catalano per un sistema di corruzione tra carabinieri, agenti della polizia penitenziaria e pregiudicati in azione tra Bari e BAT. La maxinchiesta della procura della Repubblica di Trani si estende su un periodo che va dal 2011 al 2019 durante il quale sarebbero stati commessi furti e rapine tra le due province con vantaggi economici reciproci tra forze dell'ordine corrotte e malviventi. Decisiva in tal senso la posizione di Tommaso Nuzzi, pregiudicato di Corato, che nel frattempo è diventato collaboratore di giustizia. Dalle sue rivelazioni sono emerse le responsabilità di tre militari dell'arma dei carabinieri, un luogotenente e due vicebrigadieri in attività tra le compagnie di Molfetto e Corato, un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Trani e numerosi pregiudicati già noti alle forze dell'ordine tra i rinvii a giudizio. Spicca quello di Flavio Dintrono, già noto per il cosiddetto sistema Trani, detenuto per usura e accusato di concorso in corruzione di atti giudiziai. L'imprenditore di Corato ha patteggiato due anni e sei mesi di reclusione, ma sarebbe coinvolto anche nei furti e nelle rapine con altre 11 persone tra Bari, Trani e la stessa Corato. La rete illecita è stata favorita direttamente dagli agenti corrotti che, segnalando i propri turni di servizio notturni, permettevano ai malviventi di agire indisturbati in cambio di 500 euro per ogni colpo messo a segno. A ciò si sono aggiunti negli anni omissioni di atti d'ufficio e favori personali all'interno del carcere di Trani. Le 32 persone rinviate a giudizio dovranno attendere l'udienza preliminare del 22 febbraio presso il Tribunale di Trani davanti al giudice per le indagini preliminari, Ivan Barlafante.